E' bici! Restituisci lo slag. Hai scelto il posto sbagliato per combattere, ragazzo. Quella bastonata ti insegnerà a non immischiarti negli affari dei corsari. Questa è buona, capitano! Hai fatto una rima! Fa zitto, B. Sì, capitano, zitto. Prepara la sentina e fatti da parte! Beh, i ratti mangeranno lombux stasera. Il segreto dei lombux resta coi pirati! Io e la mia ciurma abbiamo grossi progetti a fare. Hai stretto la mano? Pirata, ragazzo, bene, ecco la tua occasione! Ancora qua! Ok, dobbiamo fare qualcosa. Uomini! Ma il capitano sa di aiuto, compagni! Infilciate quel top di fogna! Forza, ragazzo! Va a prendere il tuo prezioso dimensionatore! Minceratore! Brutta storia! Brutta storia! Che gruppo basso per il capitano! Uomini, venite! Fate fuori questa creatura putrefatta! Avete sentito, furfanti rognosi? Facciamola a pezzi! Che gruppo basso per il capitano, Sfaluio. Tio! C'e1, ragazzo! C'e2, ragazzo! C'e3, ragazzo! C'e3, ragazzo C'e3, ragazzo? Ehi, chi sono? Sono il capitano Slagg, piaga detta galassia. Altro grog in malone, non posso guardare. Brutta storia, brutta storia! Che colpo basso per il capitano! Entro! Colpo fantastico, capo! Eccellente! Non morire così presto, amico! Va bene, capo! Cosa possiamo fare per te? Per un po' di rarità, noi possiamo rendere la tua patetica arma una forza di cui tenere conto. E oggi abbiamo un'offerta speciale! Per ogni potenziamento acquistato, ne sblocchiamo un altro! E voilà! Potenziato! Bello e fatto! Bello e fatto! E voilà! Potenziato! Potenziato! Bello e fatto! Potenziato! Vabbè! Hai cuore, ma non hai forza! Ancora qua, tu? Ok, dobbiamo fare qualcosa. Uomini! Hai capitano, salvi aiuto, compagni! Infissate quel topo di fogna! Arrenditi, amico! Il dimensionatore mio! Chi vorrà altro per spedire il vecchio slag sotto la carta? Centro! Colpo fantastico! Ecco, capo, eccellente! Uomini, venite! Fate fuori questa creatura putrefatta! Avete sentito, furfanti rognosi? Facciamola, pazzi! Aspettami! Deve essere pirata e che non deve trovare di marzo quando... Da imbrogli! Questo grog in malone non posso guardare! Sto sprecando il nostro grog! È contro il codice! Pete, vieni ad aiutarmi, mogliole giallo! No! Scusa, capo, ma preferirei inoltrare la tua richiesta al reparto appropriato! Compagni! Forza, ragazzo! Va a prendere il tuo prezioso dimensionatore! Abbiamo un Lombax a terra! Questa è buona! Abbiamo un Lombax a terra! Questa è... Fa bene! Capitano, lo stai facendo vincere! Ancora qua, tu? Ok, dobbiamo fare qualcosa... Uomini! Ma il Capitano serve aiuto, compagni! Infizzate quel top di fogna! Sì! Storia brutta, storia che... Colpo basso per il Capitano! Ma il Maestro è provato! Tirata, ragazzo, bene! Ecco la tua occasione! È troppo in malore! Non posso guardare! Un'altra colpa fortunata! Tu tranquillo, Capo, l'hai incassato proprio dove volevi! Fa bene! Fa bene! L'aspetto migliore dell'essere pirata è che non devi provare rimorso quando imbrogli Ancora qua tu? Ok, dobbiamo fare qualcosa Uomini! Hai capitano se ne aiuto compagni? Infissate quel topo di fogna Sai chi sono? Sono il capitano Sla- E' la piazza della cassa Abbiamo un lobo a sa terra! Ha 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 ha! Queste bu- Buona, capitano! Brutta storia! Brutta storia! Brutta storia! Brutta storia! Brutta storia! Brutta storia! Fate fuori questa creatura putrefatta! Avete sentito, furfanti rognosi? Facciamola pazzi! Un altro colpo fortunato! Tranquillo capo, l'hai incassato proprio dove volevi! Ar snazzi che mi ha la найдataata! Brutta storia! Brutta storia! Brutta storia! Brutta che vi sto So- Capo, ma preferirei inoltrare la tua richiesta al reparto appropriato. Compagni! Aspetta, l'essere pirata è che non devi provare... Rimorza quando imbrogli. Ok, ora sono preoccupato. No! 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 Già, la fine è vicina! Oh, che bello, Pete! La luce radiosa alla fine del buio tunnel! Oh! Ma ormai, fin dove l'occhio può vedere! Tutti con un grog in mano e un sorriso! Per il vecchio slag! E ora Dio! Galassia credele! Statemi... Capo! Capo? No! Perché? 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 Ehm... Ehm... È illogico usare il dispositivo! Conosci la minaccia che racchiude! Quale minaccia? Sai, da quella storia del turbo slitta sei stato solo un'enorme rottura di... Quark! Quark! Che stai facendo? Ti mostro all'universo di essere un supereroe! Mi sto battendo anche per la smutandata del secolo, ma... Soprattutto come supereroe! Quark! Metti giù il dimensionatore! Tra poco inciderò il mio nome in lettere d'oro sulle pagine della storia galattica! Scagliando questo dispositivo infernale in un buco nero! Non temere, capo! Quel vascello farà lotta verso il più vicino pianeta disponibile! Che pianeta è? Il pianeta dei Kragmiti, capitano! Krog? Ratchet, posso scaricare le coordinate del pianeta dei Kragmiti dal comunicatore di Krog? Fallo! Diggi di incontrarci fuori dalla stratosfera del pianeta! Forza, dobbiamo tornare da Felion! Hai ottenuto il mappatore del tesoro! Questo dispositivo ti rivelerà tutte le zone nascoste in Bolt d'oro! Indispensabile per ogni pirata in azione! Coordinate acquisite per il pianeta Rippor! Vabbè! volte traccio! Vabbè? .. qualcosa di più forte sulla sc 77 All' cues a Il segnalatore di posizione del pod è arrivato a 3 kilocubiti verso nord. Ma lì non ci sono zone adatte all'atterraggio. Beh, si farà nel modo difficile. Cronk, Zephyr, salto d'alta quota! Affermativo, Pivello! Fai strada! Questo mi ricorda quella volta che abbiamo fatto quel salto d'alta quota con quell'Homax e il suo amico metallico sul pianeta dei Kragmiti! Zephyr, quando è successo? Oh, che diamine! Sta succedendo adesso, dannato idiota! Ratchet! Dobbiamo recuperare il dimensionatore prima di ta- Spero che il tuo amico non fosse tanto stupido da prenderlo e girare per Rippor! Cronk, Miss Talwin è qui! Dobbiamo proteggerla! So prendermi cura di me, Zephyr! Sto analizzando tutti i canali droghi! Fa bene, capo! Se troviamo Quark, troveremo il dimensionatore! Benvenuto nell'armeria! Danno a presto di me, Zephyr! Ero! Perchè, ti amici! Torni! Perchè, ti amici! Ero! BiSA! Cronk, Quark Cronk, Quark Direi armature, Grame! Terima, gratisum! Ero! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Benvenuto nell'ar... Complimenti. Potenziamento ottenuto. Giudicatore, la tua arma è stata modificata per lanciare due razzi aggiuntivi. Grazie a tutti. Catturando quelle postazioni d'artiglieria potremmo usarle per eliminare il campo di forza. Forza, dobbiamo muoverci prima che arrivino i rinforzi. Dobbiamo neutralizzare quegli avamposti. Crank, tira fuori quel campo di forza. Subito, Miss Talwin. Arriba! Cariche piazzate! Al riparo! Benvenuto nell'arme... Ben fatto, Ratchet! Zef, va là dentro e prendi il comando della torretta. Mr. Zorka, rinventi... Confezionati con modulatore di personale. Eccoci. Finalmente una possibilità di mostrare le mie superiori capacità online. Complimenti! Potenziamento ottenuto. Alpha Cannone. Il raggio energetico... ...della tua arma ora esploderà a contatto con qualsiasi nemico. Benvenuto nell'armeria GrummelNet. Personalizzare la scelta rapida. Metti il gioco in pausa e accedi al menu di scelta rapida. Grazie a tutti. Tanno che ci sp Dash. Grazie a tutti. Seguiz takes licence e accedi a ti! Sì, ii 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 ii. C'è la scelta rapida. Detto che è la scelta rapida. Ciao! C'è la scelta rapida. Fai la scelta rapida! C'è la scelta rapida. ...dici di più. Vabbè Benvenuto nell'ar- Forza pivello farò saltare i generatori esterni e tu spegni gli scudi di sicurezza Caprimi pivello vado Cari che piazzate questa la vedranno fino a sargasso Andiamo ragazzi! Ancora un avamposto! Protocollo di criptazione superato Chiusura processi di sicurezza Cambio di traiettoria cannone Comando confermato I cannoni sono nostri Va bene Eccellente! Kronk, Zephyr, voi restate su quelle torrette Noi entriamo Novicelli in arrivo! Vabbè L affinata Vabbè 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 Grazie a tutti.